Allora ragazzi, oggi voglio costruire lo smartphone, il Frankenstein smartphone con la batteria più mostruosa mai vista. Penso che la batteria sia un po' il punto critico di tutta la tecnologia attuale. Noi assistiamo a un'evoluzione della tecnologia da un punto di vista prestazionale, ma le batterie sono sempre un po' scarse e difficilmente ci portano a fine giornata con un utilizzo intensivo. Oggi scardiniamo questo preconcetto. Partiamo subito con questo LG K420. Lasciamo perdere, questo è già un dispositivo obsoleto, ma faremo qualcosa di interessante con questo smartphone. Anzitutto dobbiamo capire come si struttura una batteria. Non tutti sanno infatti che la batteria non è soltanto un accumulatore, ma ha anche all'interno un'elettronica di controllo. L'elettronica di controllo serve a conteggiare i cicli di carica e scarica, il controllo della temperatura della cella e a fare una serie di operazioni come per esempio il consenso della batteria. Alcune batterie sono tarate in modo tale da funzionare solo su determinati tipi di dispositivi e su determinati modelli specifici di apparecchiature anche della stessa marca. Quindi quella che vediamo qui è la cella e questa invece è l'elettronica di controllo che va a dialogare con la scheda madre del cellulare. Quindi la cosa che dovremmo fare è eliminare la cella esistente e conservare l'elettronica dello smartphone. Questo servirà perché nel momento in cui andremo a mettere la batteria nuova, praticamente il cellulare riconoscerà la batteria come quella vecchia, soltanto che sarà una batteria molto più grande. Procediamo quindi a fare la stessa cosa con il nostro smartphone. Ho cominciato a saldare i quattro fili direttamente dalla scheda della batteria alla scheda madre dello smartphone. Procediamo quindi con la seconda fase dell'installazione. Questa qui è una batteria di un tablet. Sono in realtà due celle sovrapposte, come vedete molto sottili. Le ho ripiegate su se stesse in modo che potessero più o meno sovrapporsi alla dimensione dello smartphone. E adesso le collegherò elettricamente alla scheda. Più si trova da questa parte e il meno da quest'altra. Adesso dobbiamo andare a collegare i poli nella giusta polarità. Per capire qual è il più e qual è il meno dei contatti che troviamo sulla scheda della batteria, dobbiamo trovare appunto la terra, la massa sul smartphone e vedere dove si trova. Usiamo la funzione diodo del multimetro. Ok, abbiamo la massa qui dove ho collegato il cavetto blu. Questo qui va esattamente qui. Qui così. Quindi adesso sappiamo che il nostro negativo sarà questo qui. E questo invece sarà il positivo. Procediamo quindi con la saldatura. Allora, adesso c'è un problema. Questo smartphone non è effettivamente fra i migliori per fare questo tipo di esperimenti perché, come vedete, ha tutti i tasti di controllo sulla parte posteriore. Quindi se io mettessi la batteria mostruosa qui, potrei più controllare lo smartphone. Allora, adesso dovrò fare un altro po' di chirurgia. L'operazione che andrò a fare adesso è quella forse un po' più antipatica. Ho smontato un motorino come questo per prendere il filamento perché dovrò andare a fare dei punticelli fra il bottone che abbiamo visto prima e i relativi contatti sulla scheda madre. Ebbene sì, l'ho fatto davvero. E devo dire che è venuto anche meglio di quanto mi aspettassi. Certo, è relativo perché è comunque qualcosa di molto Frankenstein. La cosa bella è che potendo fare un po' quello che volevo ci ho messo l'altoparlante di un iPhone X. L'audio, ragazzi, è spettacolare. A questo punto voglio proprio vedere quanto dura. Bene, ragazzi, è passata quasi una giornata. In realtà quasi 13 ore di autonomia sfruttata e siamo ancora a 72%. In realtà ho staccato questo smartphone solo a mezzogiorno perché è a quell'ora che mi sono accorto che la batteria era effettivamente al 100% della sua carica. Andiamo un po' a vedere la curva di scarica. Durante la giornata, allora qui c'è mezzogiorno, progressivamente queste sono le ore che vanno. Ecco qui, dove c'è la rampa più ripida è quando ho utilizzato un po' la videocamera per fare un po' di video che fra un po' monterò e vi porterò. Ho utilizzato un po' Chrome, Telegram, YouTube, Facebook, Messenger, WhatsApp. Poi in realtà non so se rientra nel sistema operativo Android ma ho utilizzato abbastanza anche la fotocamera, come dicevo, in modalità video. Oggi è sabato 5 dicembre secondo giorno di utilizzo pieno della batteria. Sono arrivato alle 21 con il 50% e più della batteria. Poi ho fatto una videochiamata e chiaramente la capacità residua della batteria è andata tutta nella chiamata. Che dire ragazzi? Una batteria che sicuramente avrei potuto tranquillamente tirare fino a domani, fino a sicuramente metà giornata di domani. Complessivamente direi che se non avessi fatto questa chiamata sarei arrivato a più di 40 ore. Adesso però ho totalizzato l'incredibile record di 34 ore e 58 minuti di uso della batteria. Le applicazioni sono sempre le stesse più o meno. Ovviamente qui adesso ho Whatsapp con cui ho fatto la videochiamata che ha l'11% dell'utilizzo. Anzi questo video termina qui, ci vediamo al prossimo video.